Buongiorno, sono sempre Fabio Lunghi, eccomi qua dopo aver subito l'intervento da parte del dottor Gabriele Antonini, ecco qua sono bello sorridente e devo dire con tutto il cuore che mi ha redato la voglia di vivere dopo la tragica malattia che ho avuto, il tumore alla prostata, ringrazio di cuore tantissimo il dottore, sarà sempre nei miei pensieri e dico solamente una cosa, chi ha la patologia che ho avuto io, io sto facendo del tutto per far capire agli uomini che hanno questo problema che si può risolvere, non bisogna mettere la testa sotto la sabbia e andare avanti come stavo facendo io, grazie di cuore tantissimo al dottor Antonini, una persona stupenda, mai vista una persona, mai incontrata una persona così, io il tumore alla prostata ce l'ho avuto, sono stato operato nel 2017, ho fatto tre anni, i primi due anni una vita che non l'acqua nemmeno al mio peggior nemico, una vita che non avevo più voglia di vivere, non avevo più voglia di niente, un uomo a 50 anni che non può avere più rapporti e non lo so quanto, è una cosa indescrivibile, facevo delle punture ma ogni volta era una tragedia, non vorrei passare quello che ho passato io i primi due anni, poi per fortuna è andato tutto bene e sono contento di tutto ciò. Il piacere dell'orgasmo ho riacquistato tutto e ai primi tempi c'era un po' di problemi, era difficile accettarla però poi visto i risultati dopo due mesi va tutta alla grande, praticamente è ritornata come prima. No assolutamente la protesi a occhio nudo non vedi proprio assolutamente niente, devo dire che adesso dopo un anno quasi dell'intervento è diventata una cosa normale, è come se fosse, non lo so, come se non ci avessi niente e è così, è una cosa indescrivibile, sempre grazie al dottor Antonini. La mattina adesso c'è un piacere a svegliarmi, la mattina prima dell'intervento mi veniva da piangere perché il pene era diventato talmente piccolo, non lo vedevo nemmeno più, era irriconoscibile. Adesso svegliando di me la mattina è diventato come prima, quindi ho la mia soddisfazione. Grazie dottore. Mia moglie è contentissima, ecco è contentissima, abbiamo pronotato il primo weekend da soli, quindi ad essendo sposato con due figli che ci andiamo a godere un po' la vita, è contentissima di tutto ciò. Grazie anche a lei perché lei mi ha dato la forza di fare tutto quanto. Quindi auguro a chi ha il problema mio di... guarda, ormai via social, via tutto, bisogna solo un attimino darsi una svegliata e non dormire più. Questo problema che abbiamo con noi si può risolvere grazie all'intervento dottor Antonini, grazie di cuore.